grazie una foto in zero non sei ma qui ora guarda la fila guarda che bene ciao ci ritoriamo via via quello che sei spogliato i più belli fino a ora che ho visto perché siamo sorridenzi noi no, tu me li scogli a lui perché sono sorridenzi a teare dai grazie grazie Francesco Ducco Casasso la BBB Production presenta un incontro internazionale sulla distanza di 4 round valevole per la categoria pensi i massimi leggeri al di noi il nostro è il signor Marco Marzuoli di Roma al lago blu allo presso di Osastro Tachini e Gocetto il patrocini Nero Cianchi e con un regolo professionista formato da 7 in conti rispondati 3 vittorie per lui 2 delle quali per capo 4 sono le scopite per il Big Boss Team Nier Ciazza Daniel Cavaz Ungheria Davide Sipos contro di lui all'angolo rosso al peso di 18 miliardi il patrocini rosso bianchi e con un regolo da come sopra la squadra con un regolo di fronte disputati 1 vittoria per capo per lui e una soffitta al suo angolo il già campione d'Italia dell'Unione Europea dei benissimi leggeri Vittorio Ooi accompagnato da Luigi di Martello per la BBB Production sarebbe una italia Rosetto Tocco Casalto se interessi a qualcuno io ti lascio non è una cana questa qui non lo so, non lo so bene tu mi dici l'ora tu mi dici l'ora a me mi sembra identica due anni fa ma fortunà si 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 ma C'è una sorta di due testa. Voi! 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 Grah! 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 Sì! Sì! ... ... ... ... ... Un mio braccio. Sì, 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 sì. Grazie! Non sono davanti, non è davanti, non è davanti, non gli fermi Sì! Giorno Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 diventa a tutti.